Come si fa ad entrare ad Harvard? Come funziona? È necessario bastire un'application per la quale sono richieste tre reference letters, una motivation letter e il transcript dei voti. Qual è la percentuale degli studenti che applicano rispetto a quella, diciamo, degli studenti che vengono approvati? Sai che non ne ho idea. Ho cercato e ho trovato che in particolare per Harvard la media di accettazioni è il 4% degli studenti che applicano.